Siamo da B&B e parliamo con Naoto Fukasawa che ci presenta un aggiornamento del suo progetto Papilio. Il nome è Piccolo Papilio, ha un po' di dimensione che si tratta di un po' di scopo, è come un giro di spettacolo, come un teddy bear o qualcosa, mi piace molto, sembra molto amico. Qual è la tua relazione con B&B, con questa compagnia italiana? Sono molto importanti, lavorando insieme a fare un obiettivo interessante. Per questo anno ho scelto Papilio e Titi Kaka in un po' di spettacolo. In un'altra parte, in un'altra parte, in un'altra parte, in un'altra parte. Credo che B&B abbia sempre un standard, anche per dare la nostra vita più comfort, più esercitante, e così via. Credo che sia una relazione molto buona con loro. E cosa sull'idea del design? Hai sempre un design semplice che tutti gli altri potrebbero capire? Quando vedete qualcosa, potete visualizzare e semplificare l'immagine nel tuo cervello. Questo è quello che chiamiamo l'icono, come un figlio. Il mio design è sempre attraverso e visualizzando l'immagine semplificata dal nostro cervello. Quindi, qualcuno che vedete il mio prodotto prima, potrebbe sentire l'immagine e visualizzare l'immagine. Molto insieme, potrebbe sentire il mio prodotto come un'immagine iconica. Quindi, questa è l'idea. Quindi, per cui ho sempre pensato di visualizzare l'immagine dal tuo cervello o dal qualcuno'immagine. Quindi, questa è la forma che faccio sempre, per designare. C'è qualcosa in questo Salone del Mobile che vuoi vedere? Ho lavorato con 13 diversi compagni per questo anno, per mostrare un nuovo prodotto. Quindi, abbastanza molto. Quindi, abbastanza, mi piace lavorare un anno per mostrare nuove cose per il prossimo anno. Io non so, non lo so. Nene, prize per andare ad andare al Fiera sì, potrei trovare qualcosa di interessante, ma... Dì, ecco il momento. Ma è un ottimo momento. In confronto, le mondo è molto buono, la situazione economica non è così bene. Quindi, loro sono moltoケilari per fare la vita più qualità. Ogni non è un'importante cosa importante. è più che ti senti, che ti senti a comunicare il obiettivo, l'ambiente, l'ambiente, la vita. Quindi è un'ottima tempo per noi, per disegnare il prodotto, per il nostro vita.